Da nord a sud, piazze, città, attraversa tutto lo stivale, è l'avventura della Team Cup 2014. Per gli ottavi di finale, oggi alle 18 su Rai 2, i giallorossi incontrano la Sampdoria. E questa sera, sempre su Rai 2, alle 21, l'udinese testa di serie ospita l'Inter. Inesclusiva su Rai 2